Si terrà domenica 6 gennaio alle ore 21 presso il teatro Aldo Giuffredi Battipaglia la proiezione di Ammia Insaputa, il docufilm realizzato dall'attore e regista Vito Cesaro dedicato all'imitatore Mario Di Gilio. Il film, realizzato grazie al supporto di Asso Teatro Indigo e Nuovo Imaie, gode del patrocinio del comune di Salerno per la valenza storica ed artistica di un prodotto che valorizza un illustre salernitano e la città che gli ha dato i Natali. Il docufilm vuole essere un omaggio e una ricerca sulla nascita di un genere artistico, quello dell'imitazione. Capire cosa spinge una persona a diventarne un'altra è la domanda che sta alla base del lavoro del regista.